Ciao, sono Nicola Galloro e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Andrè Corallo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Augusto Santini e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao! Ciao a tutti, sono Antone Fioretto e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Davide Terraneo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao sono Francesco Acchiardi e anch'io ascolto tutti i giorni Radio Inizia il Campionato Ciao a tutti sono Giulio Incagli e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato Ciao sono Giordano Borriello e ovviamente anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato Ciao sono Leonardo Andreini e anch'io ascolto direttamente la Firenze tutti i giorni Radio Inizia il Campionato Un saluto Ciao sono Giovanni Remigare e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato Ciao sono Pietro Cartolano e anche io ascolto Radio Inizia il Campionato Ciao sono Enzo Margiotta e anch'io ascolto sempre ma sempre Radio Inizia il Campionato Bentornati Calcio Mercato Night Buongiorno a tutti Allora il mercato è sempre in fibrillazione Vi abbiamo fatto ascoltare due settimane fa la conferenza stampa di Pirlo Poi abbiamo presentato insieme i calendari della serie A tramite la pagina Facebook e torniamo con il Calcio Mercato Perché? Perché il mercato è davvero diverso questo mercato Ma ci sono tanti intrecci Un intrecci importante è quello di Vidal Di Vidal all'Inter Poi ci sono tante altre novità che arrivano poi arrivano tante novità da parte dell'Inter e del Milan Ma andiamo a fare l'epilogo praticamente Un epilogo che ci dice che l'Inter aspetta Vidal L'epilogo di ieri L'Inter aspetta Vidal La Juventus aspetta Luis Suarez Ma per aspettare Luis Suarez la Juventus deve attendere il passaporto italiano Stavamo tutti aspettando questo passaporto italiano Tutti dicono ma perché lo aspettate il passaporto italiano? Che cosa ci serve? Suarez E invece serve Suarez Ma ci stanno anche altri giocatori che devono partire per la Juventus Ne approfondiremo in questa puntata Avremo anche tanto da dire Poi perché Allora sono tante novità Perché questo? Perché c'è una novità per il mercato Perché Allora arriva un nuovo portiere per lo Spezia Che è Zoet Questo nuovo portiere Sono anche altre notizie Il Crotone ha preso Rispoli Ha preso Rispoli Poi andiamo anche al mercato Milan Perché praticamente oggi si fanno le visite mediche Personali ieri sera Poi attraverso i nostri profili potete ritrovare Anche il saluto Soprattutto su Twitter potete ritrovare Il saluto Il saluto che ha fatto prima di entrare alle visite mediche Il saluto Che potete ritrovarlo E poi anche altre novità Novità che è stata di oggi Che lo dobbiamo dire espressamente Il Bayern Monaco non ha riscattato Ivan Perisic E questa è una notizia che fa brillare gli occhi a tutti i tifosi dell'Inter Perché Ivan Perisic ha giocato molto bene con il Bayern Monaco Da quando si è andati dall'Italia E allora potrebbe anche essere una pedina molto importante per Antonio Conte Però non si sa come vanno le cose Perché c'è chi lo vorrebbe vendere e chi non lo vorrebbe vendere Ma ci sono praticamente Altra novità C'è il fatto di Gonzalo Higuain praticamente Che ne parleremo a breve di Gonzalo Higuain Ma si è parlato ieri anche di un possibile ritorno di Borcavalero alla Fiorentina Mentre la Fiorentina ha venduto D'Abo al Benevento Grande giocatore L'anno scorso era alla spalla D'Abo Io devo dire la verità D'Abo un grande giocatore Poi man mano parleremo anche dei trasferimenti Perché ne parliamo anche dei trasferimenti Perché si va praticamente verso la Lega Calcio Perché la Lega Calcio ha anche i propri comunicati Diciamo i propri comunicati Si parla anche del tabellone di Coppa Italia Praticamente tabelloni di Coppa Italia Allora quello che si dice tanto Allora del mercato Allora intanto nelle ultime ore Praticamente ci stanno anche altre novità Allora Allora Ieri Alexander Kolarov dalla Roma è andato all'Inter a titolo definitivo Questo su ultimi trasferimenti proprio ufficiali dal sito della legaseria.it Poi ieri Reina Pais Giuseppe Manuel dal Milan è andato a Lazio a titolo definitivo E poi Cristiano Romero è andato dalla Juventus all'Atalanta a titolo temporaneo E poi Gianluca Caprari dalla Sampodori è andato al Benevento a titolo temporaneo E poi Gianluca Lapadula dal Genova è andato a Benevento a titolo definitivo Ancora il Benevento ha preso o sta prendendo Abbiamo parlato anche Stiamo facendo anche un repilogo non solo di ieri ma anche altri giocatori che sono andati L'ultimo è Ivan Ilicic dal Manchester City al Las Verona a titolo temporaneo A titolo temporaneo lui Non è da confondere con Joseph Ilicic dell'Atalanta Poi ieri c'è stato anche un Gabriel Zappa dal Pescara al Cagliari obbligo di riscatto E quindi queste sono state un più o meno Poi c'è Fidel Adrian Otusa Temes dal Nizza a Vallella a Sverona a titolo definitivo A titolo definitivo Sono nei scorsi giorni arrivate anche altre novità Poi perciò si dice anche di questo Ma noi andiamo a prendere praticamente il comunicato ufficiale dell'Atalanta Perché ci sono ben due di comunicati ufficiali Uno è importante Ve lo leggiamo dal sito atalanta.it Sopralluogo ok dopo due giorni di ispezione La società comunica che la visita di due giorni al Gavis Stadium da parte della commissione UEFA Ha avuto esito positivo L'ispezione ha evidenziato la necessità di eseguire ulteriori lavori di adeguamento Che verranno realizzati nelle prossime settimane A seguito di queste opere l'Atalanta potrà giocare al Gavis Stadium Legare UEFA Champions League della stagione 2020-2021 E a dir poco una grande soddisfazione ha dichiarato il presidente Antonio Percassi E' un altro sogno che si realizza Ci tenivamo tantissimo il Gavis Stadium Una volta eseguiti gli ulteriori lavori richiesti alla UEFA Sarà a norma per giocare la Champions Fantastico Dopo dovremo accelerare per completare i lavori in atto Ha dichiarato Roberto Spagnolo Direttore operativo dell'Atalanta E coordinatore unico dei lavori per l'Atalanta Stadio Ed eseguire le implementazioni richieste dalla UEFA Che riguardano le postazioni e gli impianti delle aree media E l'integrazione delle aree hospitality per gli ospiti della UEFA Questo è stato il comunicato che è arrivato Bellissimo E ci teniamo anche noi a dire all'Atalanta Grazie, grazie Atalanta Che fa vivere a tutti i bergamaschi le partite lì Anche se gli stadi sono attualmente chiusi Non si potranno giocare le partite lì a Bergamo Si possono giocare a Bergamo Ma dopo che si è fatto tutte queste ristrutturazioni Questi ampliamenti, questi miglioramenti Però peccato per il pubblico Perché il pubblico ci teneva tanto Anche già dalla scorsa stagione A vedere l'Atalanta in Champions in casa Non c'è riuscita E quindi per il momento Per il momento il Covid-19 ha bloccato questa cosa Ma anche un'altra comunicazione Sempre su Atalanta.it Il sito ufficiale dell'Atalanta Benvenuto Piccini L'esterno arriva dal Valenza Atalanta comunica l'acquisizione del calciatore Cristiano Piccinini dal Valenza Titolo temporaneo con diritto di riscatto Nato a Firenze il 26 settembre 1992 Cristiano è un laterale di piede destro Che può giocare indifferentemente Sia come terzino che come esterno a tutta fascia Intelligentemente, tatticamente È dato di un buon piede E di ottima tecnica Che gli consentono anche Di essere molto efficace E efficace nei cross Un giocatore di esperienza internazionale Sia a livello di club che di nazionale Piccinini Infatti ha anche vestito la maglia azzurra E dopo le presenze con l'Under-19 L'Under-20 e l'Under-21 È arrivato anche la chiamata nazionale maggiore Del CT Mancini Che lo ha fatto esordire il 10 ottobre 2018 Nella amichevole pareggiata 1-1 a Genova Con l'Ucraina Finora sono tre le presenze nazionali Oltre al debutto Ha giocato anche un match di UEFA Nations League Vinto 1-0 in Polonia E nel successo per 2-0 Sulla Finlandia Nelle qualificazioni agli europei Giocando la sua prima partita Da titolare in maglia azzurra Calcisticamente Dopo i primi passi nello Sporting Arno È cresciuto nel settore gioannile della Fiorentina Vestendo la maglia Viola dai 10 anni Fino alla prima squadra Durante il suo percorso di crescita Vince uno scudetto con gli allievi nazionali E una Coppa Italia Primavera Per poi arrivare ad esordire in prima squadra Poco più che maggiore Nel 5 dicembre 2010 Nel match vinto 1-0 col Cagliari Prendendo il posto di Pasquale A 11 minuti dalla fine Nel 2011 esce a farsi la cosiddetta ossa Riconquistando la massima serie Scalando un gradino per volta Prima Carrarese in prima divisione di Lega Pro Poi Spezzi in serie B Quindi Livorno in serie A Dal 2014 comincia la sua esperienza internazionale Tre anni in Spagna al Betis di Viglia Che contribuisce a riportare in Liga al primo colpo Quindi un anno in Portogallo e lo Sporting Lisbonne Nel 2018 ritorno in Spagna Questa volta con la maglia del Valencia Stagioni importanti in cui matura Un'esperienza importante anche nelle varie competizioni europee Tra UEFA Champions League e UEFA Europa League Ora a distanza di 6 anni E con oltre 200 partite in 3 professionisti Il ritorno in Italia con la maglia nero-azzurra Benvenuto Cristiano Questo è il comunicato ufficiale dal sito Atalanta Al sito Atalanta.it Ma poi sono altre notizie Altre notizie diciamo Che arrivano altre ufficialità Arrivano ufficialità anche dalla Spagna Perché Brian Olivan si è trasferito a Mallorca Il club salva una percentuale di un'operazione futura Il CAIS Football Club e il Real Club Deportivo Mallorca Hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Brian Olivan Il terzino è stato presito al Girona la scorsa stagione Con il quale ha giocato i playoff per la promozione a Liga Santander Brian è arrivato al club cadista nel 2016 Dalla filiale del Granada Dove ha giocato 4 stagioni in cui ha partecipato a 80 partite Il club mantiene una percentuale di una futura operazione Buona fortuna Brian Questo è sul sito cadizcf.com Squadra spagnola che ha anche dato di tutto e di più Poi allora andiamo avanti perché ci sono altre novità Altre novità perché ci sono altre novità Perché per quanto ci riguarda Per quanto ci riguarda diciamo Ci sono novità per la Sampdoria Perché ce lo dice il nostro Fabio Gatto di Calciomercato Report La Sampdoria cerchia il colpo in prospettiva con Marin della Dinamo Zegabria Le due parti sono molto vicine con un prestito gratuito Con riscatto vista da 5 milioni E poi proprio sul sito calciomercatoreport.it Vediamo l'articolo a cura di Francesco Quattrone Che parla di Gonzale Guain Juventus Guain verso l'Inter Miami Si lavora per la risoluzione La Juventus sta lavorando per la risoluzione del contratto di Gonzale Guain Processo lento ma si muove Nelle ultime ore con una carta intestata Anche perché l'attaccante argentino ha una bozza di contratto con l'Inter Miami Fino a dicembre del 2022 Quindi l'Inter Miami non è l'internazionale Milano Quindi a Miami negli Stati Uniti potrebbe andare con via Gonzalo Guain Gonzalo Guain già l'aveva detto quando abbiamo seguito la conferenza stampa di Andrea Pirlo Che non era più nei suoi piani Ho detto definitivamente che non era nei suoi piani E allora per questo dobbiamo anche dire che Gonzalo Guain Deve andare Vuole andare via praticamente Ci sono anche altre Altre notizie Che erano sempre altre notizie Sempre a cuore di Francesco Quattrone Sempre su www.calciomercatorreport.it Che vi invito a seguire Napoli Maximović si lavora per il rinnovo Nicola Maximović ha un desiderio O quello di rimanere a Napoli Le due parti sono a lavoro per trovare un accordo Trattativa non facile perché c'è ancora distanza per il rinnovo fino al 2024 E allora Quello di Calcio Quindi Salutiamo i nostri amici calciomercatorreport.it Che sono costantemente al lavoro Costantemente al lavoro Allora Poi Noi anche sui social Twitter Facebook Instagram Mi aggiorneremo Minuto Mi aggiorneremo Minuto Dopo Minuto Per Quanto Per Quanto riguarda Soprattutto Il Per quanto riguarda il calciomercato Per il momento Ci sono Non ci sono altre Novità Ci sono anche altre Novità Poi Si è parlato Soprattutto in questa Diciamo Mattinata Altre cose Si è parlato Soprattutto Perché L'ha detto Allora Il L'ha detto Praticamente Sulla prima pagina Di Marca Dice 96 milioni Invest In ingresso Del Madrid In operazione In 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 Grandi operazioni Ho detto Proprio Ve lo dico Marca Ha detto Proprio Marca Ha detto Ha detto Proprio Questa cosa Praticamente Che loro Non Vogliono Diciamo Vogliono Spendere Tanti Milioni Marca È stato A dirlo 96 milioni Questo Quello Che Ha detto Marca Praticamente Sul Real Madrid Quindi Sulla Prima pagina Sulla Prima pagina Marca Real Madrid 96 milioni Di cessioni Sono cessioni A Akraf Hakim James Oscar Rodríguez Quindi Queste potrebbero Essere Le cessioni L'ha detto Marca In Prima pagina In Prima pagina L'ha detto Marca Poi ci sono Anche Altre Notizie Che Ranno Alle Prime Pagine Dei Giornali Allora Altre prime Pagine Dei giornali Soprattutto Quelle italiane Che parlano La gazzetta Soprattutto Di Mila Perché Oggi Vi si Dimentica Di tonali Tonali Cose Da Milan Telefonata Gattuso Rino Possendo Sare La maglia Nr. 8 Pachetà Verso Il Lione Milan Poi Si parla Del Corriere Lo Sport Di Anche Di Di Kolarov Conti Ha il suo Zolli Fiorentina Buonaventura Firma Shaquick Al Bayern 26,5 Milioni Di euro Poi Nella parte Centrale C'è La carica Di CR 101 Quindi Ronaldo Va in Tribuletta Cifra Con il Portogallo Due Gole Alla Svezia Quindi E poi Si parla Anche Diciamo In Tutto Sport Tutti Con Nicolò Perché Nicolò Rottura Del Crociato Questo È L'esito Degli Esami Effettuati A Zagnolo Dopo L'infortunio Di Lunedì In Nazionale Sarà Operato Ma Tornerà Più Forte Di Prima Questo Lo Ha Detto Ma Poi Un'altra Cosa Ciccio Graziani Che paura Cade da sette metri Va in ospedale Si è rotto le costole Ma Cade da sette metri Quindi Anche a Ciccio Graziani Ci stringiamo Poi la Juve E la Champions Pirlo Sa come si fa Poi anche Atalanta Arriva Piccinini Stadio Ok UEFA E allora Altre Sono anche Notizie Queste Più o meno Sono di calcio Il Codiano Sportivo Forza Zagnolo L'Italia Aspetta Poi ecco Il piano L'Inter Per Adiare A Cantè Infinito CR7 Segna il gol Numero 100 In Nazionale Poi Anche altre Coppa Italia Le 23 Settembre Le big A gennaio E il Romanista Dice Noi Saremo Sempre Qua Per Nicolo Zagnolo Praticamente E allora Ci sono E quindi Queste più o meno Le due pagine Giornali Si è parlato Un marca Ha detto questo fatto 96 milioni Noi lo abbiamo anche Ve l'abbiamo anche Detto Più o meno Poi ci sta Anche il Il mondo Deportivo Che parla Anche di Vi parla Di Vidal Quindi Inizia il Rinuncerà Su ultimo anno Di contratto Quindi rinuncerà Su ultimo anno Di contratto Con il Bar Il Bar Barcelona Allora Per questo Dobbiamo Come dire Bisogna andare Sempre avanti Per quanto Riguarda Il mercato Allora Ancora Ci sono Anche altre Altre Novità Per quanto Riguarda Il mercato Perché Perché Il Il Calcio Il calcio Mercato Sta Lavorando Allora Lavorano Tantissime Tantissime Squadre Poi Allora Un altro Colpo Che Che La Stone Un altro Colpo Della Stone Villa Praticamente Che Il Allora Oli Watkins È stato Annunciato Da Proprio Dall'Aston Dall'Aston Villa Praticamente E allora Per quello Per questo È stato Allora Andiamo Anche a Leggervi L'ufficialità Che ha Dato L'Aston Villa Sui Propri Social Perché Stiamo Facendo Anche Un Rimbalzo Con Con Gli Mercati Italiani Con Il Mercato Anche Estero Perché Così Facciamo Intanto Intanto Nel Frattempo Allora C'è Anche De Paul De Paul Si parla Anche Di De Paul Perché Perché Praticamente Il De Paul Lui Per L'Udinese De Paul Vuole Non Rebus Perché De Paul Vuole Rimanere Un altro Anno Con L'Udinese Ma Vuole Praticamente Giocare Ancora Ancora In Friuli Perché Udinese Si è salvata E quindi Possono Gli In Serie A Poi Si parla Anche Queste Ultime Sono state Le Novità Praticamente Per Pacchetta Allora Riporta La Gazzetta Dello Sport Perché Questo È Lo Sport Che È Stato Offerto 22 Milioni Rossoneri Per Pacchetta Che potrebbe Andare In Liga An Ve lo Dicevamo Al Lione E Queste Sono state Più o Meno Le Ultime Che Stanno Arrivando Allora Quello Che Vi Diciamo Del Allora Del Dell Aston Villa Dell'Aston Villa Allora Il Sito Allora Ci Scusiamo Ma C'è Stato Un Problema Allora Ecco Qui Ecco Qui Il Sito Dell'Aston Villa Che Ce lo Ricordano Aston Villa Is Delicted To Annunce Annunce The Singing Of Olly Walking From Brentford Questo è Più o Meno Quello Che Hanno Anche Detto L'Aston Villa Lo Ha Annunciato Annunciato Questo Giocatore Per Il Per Il Resto Per Il Resto Tutti Sono Felici Sono Felici Si Parla Proprio Di Questo Giocatore Ancora Ancora Per Quanto Ci Riguarda Allora Allora Per quello Che può Riguardare Anche Ancora Il Mercato Perché Il Calcio Mercato Perché Il Mercato Dà Tantissimo Continuiamo Ancora Perché Si Può Anche Allora Potranno Oltre All'entrate Diciamo Anche Nell'Inter Ci Sono Sempre Le Uscite Nell'Inter Perché Ranocchia Non è più Nei piani Della squadra Nell'Azzurra Sempre Calciomercatoreporto.it Accora Sempre Articoli Francesco Quattrone Quattrone Genoa Accelerata Per Ranocchia Offerta Un Biennale Il Genoa Fa Sul Serio Per Andrea Ranocchia In Uscita Come Detto Nei giorni Scorsi All'Inter Offerta Un Biennale Con Opzione Per Il Terzo Anno Da 1,5 Milioni Netti A Sagione Più Bonus Trattativa Ben Avviata Filtra Ottimismo Queste Sono Ancora Alte Notizia Che Ci Arrivano Calciomercatorevort.it Seguitelo Ma Noi Noi Abbiamo Quasi Siamo Quasi In Conclusione Perché Si Parla Di Tanto Si Parla Di Tutto E Di Più Ma Le Ultimissime Novità Praticamente Sono La Lazio Per Cabac Cabac Per La Difesa Praticamente Alla Cerca Di Un Giovane Centrale Per Difesa Sta Vuole Portare Avanti Rattative Con Lella Sverona Per Marash Cumbulla E Torna Anche Alla Carica Per Un Grande Giocatore Che Il DS Igli Aveva Zan Cabac Questa Era L'ultima Notizia Vi Ringraziamo Presi Stati Con Noi Calciomercato Night È Presente Radio Inizia Il Campionato Serviamo Anche Su Nostri Social Facebook Instagram Twitter Per Le Ultimissime Novità Di Mercato Ci Troviamo Domani Con Calciomercato Night Una Buona 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 Giornata A Tutti Ciao Sono Nicola Galloro E Anch'io Ascolto Radio Inizia Il Campionato Ciao Sono Andrè Corallo E Anch'io Ascolto Radio Inizia Il Campionato Ciao Sono Augusto Santini Anch'io Ascolto Radio Inizia Il Campionato Ciao Ciao A Tutti Sono Antone Fioretto E Anch'io Ascolto Radio Inizia Il Campionato Ciao Sono Davide Terraneo E Anch'io Ascolto Radio Inizia Il Campionato Ciao Sono Francesco Acchiardi Anch'io Ascolto Tutti I Giorni Radio Inizia Il Campionato Ciao Ciao Tutti Sono Giulio Incagli E Anch'io Ascolto Radio Inizia Il Campionato Ciao Sono Giordano Borriello E Ovviamente Anch'io Ascolto Radio Inizia Il Campionato Ciao Sono Leonardo Andrini E Anch'io Ascolto Direttamente La Firenze Radio Inizia Il Campionato Un Saluto Ciao Sono Giovanni Remigare Anch'io Ascolto Radio Inizia Il Campionato Ciao Ciao Sono Pietro Cartolano E Anch'io Ascolto Radio Inizia Il Campionato Ciao Sono Enzo Margiotta Anch'io Ascolto Sempre Radio Inizia Il Campionato